e riviusi a smr ciao ragazzi buongiorno come state? spero tutto bene bene oggi andremo a fare un video speciale e questo video sarà pop it vis pop tube ok ragazzi pop it vis pop tube quindi ragazzi ci prepariamo subito a fare questo bellissimo video quindi iniziamo subito dal pop it ragazzi ok mi sono armata di un pennellino per spingere giù i cosi perché con le unghie non ce la faccio quindi per fare una cosa un po' più rapida facciamo così a 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